ragazzi oggi sono molto serio vi voglio lanciare una sfida ieri ieri o altro ieri non mi ricordo ho spacchettato un po indominato è riuscito si ragazzi oggi voglio provare questa sfida una lì fa lo scattirò solamente se vuoi lasciate quindi ragazzi scegliamo al prossimo prossimo episodio lasciate un iscriviti al canale